Sì, abbiamo deciso di dotare dei look differenti. Sexy? Ma comodo. Fai vedere che cosa c'è. Molto comodo. Stai freddo? Cioè, è sentatissimo, aspettando un attimo. Ragazzi, stai aspettando una persona per fare la figa, sacchiatrando, perché deve farsi vedere così, appennemente si va a mettere il pigiato. Allora, ragazzi, abbiamo un problema. Un problema? Abbiamo i topo. Eh, stiamo pieni di problemi. Allora, il nostro condizionatore che è gesto da due ore è... A 18 gradi. 18 gradi. Io sto con la coperta addosso. Io sto cercando... Niente, non... Non vavo. Vecchie mani. Spegni e riaccendi. Ehi, spegni, sto spegendo, sto spegendo. E i figli di me? E i figli di me che mi sono. Scusa, ma ma che entra? Dice, ho messo la prima cosa che ho trovato. Scusate, se faceva freddo. C'erano i 18 gradi. E quindi, niente, mi vado a vestire. E ho messo la prima cosa che ho trovato. Ho detto, scusa, mi sono un po' scialba stasera. E io invece, ragazzi, la pomerai. Vabbè, comunque i nostri ospiti sono entrati. Penso che puoi anche andare a... A mettere di puzzare di freddo. Dai, arriva di acqua. Sono timida. Se vuoi, ho per te un alberello ancora. Sono timida. Scusate. Scusate. Scusate.